Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video ormai siamo sempre più vicino ai team of the season di FIFA 15 quindi sono qui con questo video velocissimo in cui vi dirò tutto quello che dovete sapere per essere preparati per questi team of the season In FIFA 14 visto che c'era stato il mondiale era stata anticipata l'uscita dei team of the season il 23 aprile mentre in FIFA 12 e FIFA 13 era uscito il 2 maggio e l'8 maggio Quindi presumibilmente in FIFA 15 i team of the season inizieranno dal mercoledì prossimo che sarà il 6 maggio oppure iniziare il 13 maggio se proprio aspettano a metterli Partiamo subito descrivendo questi team of the season infatti i primi team of the season che usciranno saranno i team of the season most consistent never if Ossia giocatori che non hanno mai ricevuto una versione in forno nonostante abbiano disposato una buona stagione nel loro campionato e usciranno di 3 versioni ossia oro, argento e bronzo E successivamente a questi Tots most consistent ci saranno i team of the season dei principali campionati come la Barclays Premier League, la Football League, la Bundesliga, la Serie A, la Ligan, la Liga VVA e uno con tutti i continenti e poi quello finale con tutti i giocatori migliori Praticamente dovrebbe uscire un team of the season a settimana praticamente il mercoledì Per quanto riguarda i giocatori che sono interessato ad acquistare ci sono alcuni che sembrano davvero molto interessanti che probabilmente acquisterò sicuramente ossia team of the season Jackson, Martínez che secondo me sarà una bomba Team of the season Lacazette, team of the season Fekir che sono due giocatori del Lione che mi interessa davvero molto E vi invito a scrivere qui sotto nei commenti quali sono i giocatori che vi interessa acquistare di questi team of the season Detto questo vi invito a lasciare un mi piace, a breve uscirà anche un video su team of the season, quelli più generali Detto questo io spero che vi sia stato utile questo mio velocissimo video su team of the season Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video Ciao a tutti